Il clima è già di quelli che lasciano immaginare che possa esserci un'emergenza da un giorno all'altro. Fortunatamente però si sta mettendo riparo a questa situazione nella zona industriale di Molfetta. Non si sta mettendo, direi si è messo riparo. La novità fondamentale della conferenza stampa di oggi è quella che dal 2012 che era stato tutto programmato e reperito i fondi e che dal 2012 si è lavorato anche purtroppo con la lunga burocrazia italiana, cosa ben nota a tutti, e si è giunti oggi alla cantierabilità delle opere. Quindi fase di reperimento fondi, fase di appalto, fase di aggiudicazione, fase di aggiugazione definitiva, oggi cantierabilità degli interventi e quindi ci siamo. Se mi consentite, per averci lavorato a lungo, oltre alla questione della sistemazione viaria e della fogna bianca, cioè quella per le acque piovane, c'è un'altra opera fondamentale, quella di adduzione del gas metano, che per tutte le aziende sarà una possibilità concreta di riduzione dei costi energetici, che come è noto per le aziende costituiscono un costo fisso fondamentale. E quindi è una opera seria che abbiamo fatto da tempo e che oggi abbiamo portato a compimento. Come vi è noto, vengo alla stampa solo quando tutto è fatto e parlerò con le carte. Adesso poi mi dicono che c'è la politica di qualche giovane signora, ma non mi occupo di loro. Presidente, ma i tempi di attuazione concreti quanti possono essere? I mediati. Per l'avvio dei lavori, il completamento? Questo adesso francamente non glielo so dire, ma non credo che si tratta di tempi molto grandi, è descritto tutto nella relazione, questo però naturalmente sarà il controllo dell'ASI che consentirei di fare subito le cose. Io mi auguro prima di tutto che siano fatte bene e poi naturalmente al più presto possibile. Voglio dirvi che dunque dal luglio del 2012 ad oggi sono passati due anni ed essere passati dalla fase di reperimento fondi alla cantierabilità in due anni in Italia, in Europa forse è troppo, in Italia è certamente poco. Lei ha detto che non si occupa della signora che abita a Palazzo di Città, ma la sua incompatibilità presunta all'interno dell'ASI? No, guardi, le ripeto, io non mi occupo. Peraltro queste cose sono fatte ad ottobre del 2012, quando era ancora sindaco e continuo ad essere consigliere di amministrazione. Che posso dire per la gentile signora che ha l'avventura per lei, e la sventura per la città di ricoprire la carica di sindaco e si occupa sempre di questioni marginali, ma non è un problema, le cose le faccio lo stesso.